Quello che i sindacati da tempo denunciavano è divenuto realtà. La RC Solution ha confermato i 10 licenziamenti sui 12 dipendenti dell'azienda. I licenziamenti erano stati annunciati dall'azienda il 15 dicembre del 2023. Nonostante gli sforzi messi in campo da FIOM e FIM, l'azienda ha confermato la sua volontà di ridurre drasticamente il personale sulla sede dell'Aquila. A subire il licenziamento sono 10 lavoratrici che dal 2018 avevano avuto anche una riduzione dell'orario di lavoro voluto dall'azienda con un conseguente impatto sul salario, contributi previdenziali e anche sulla NASPI che dunque percepiranno come licenziate. A questo si aggiunge il fatto che l'azienda non paga gli stipendi da ben tre mesi. Sindacati e lavoratori allora oggi si sono ritrovati davanti ai cancelli dello stabilimento per portare tutti a conoscenza della drammatica situazione occupazionale che ancora una volta si abbatte sulla città. Le lavoratrici hanno in media 45 anni. Cosa pazzesca che chiaramente non abbiamo avuto modo di portare avanti è il fatto che l'azienda si è impuntata anche sul non voler fare un percorso di cassa integrazione straordinaria perché il procedimento che avevano aperto era di cassa integrazione ordinaria. Poi a dicembre abbiamo avuto questa sorpresa il licenziamento collettivo, è stato fatto tutte le fasi sindacali e anche amministrative con la regione, anche la regione gli ha chiesto di provare ad aprire una cassa integrazione straordinaria, cosa che l'azienda non ha voluto fare dicendo che per loro non ci sono i presupposti. Veramente stiamo di fronte ad un caso direi da manuale praticamente perché sono lavoratrici che già da alcuni anni sono state collocate forzatamente a part time per una richiesta fatta dall'azienda che in quel momento diceva di avere necessità di un aiuto, così veniva chiamato. Ma questo si traduce in un impatto negativo ovviamente dal punto di vista retributivo ma chiaramente anche dal punto di vista dei contributi perché con uno stipendio più basso vengono versati chiaramente meno contributi. Quest'azienda ha comunque rapporti tra i suoi clienti, ci sono aziende partecipate dallo Stato, quindi abbiamo una piccola azienda che è fornitrice di un'azienda partecipata dallo Stato che butta fuori 10 lavoratrici su 12. Anticamera della chiusura? Ma questo noi ovviamente non ci sentiamo di escluderlo, al momento non abbiamo elementi concreti per poterlo dire, ma mi chiedo da un punto di vista produttivo, cioè come potrebbero portare avanti la produzione due persone? Quindi anche su questo si apre chiaramente un capitolo importante.